Salve, buongiorno. Allora, siamo con il Presidente Giuseppe Manfredi e Fefe De Giorgi, al quale chiediamo qual è lo spirito che vi ha portato ancora una volta a Bari per la Nazionale della Paravolo. Io lascerei la parola al Presidente perché... Lo spirito è quello, siamo ritornati a Bari perché comunque ci sono nove città italiane che devono ospitare l'Europa. Abbiamo scelto Bari che è una delle città più importanti per la Pallavolo, tra l'altro Bari c'è sempre sentito di fare delle ottime prestazioni alle nazionali, ma soprattutto si è credibile che ci sei. E io ho cercato di convincere il Presidente di venire a Bari perché da Pugliese è una cosa di orgoglio e di soddisfazione. Poi sono sicuro che il pubblico pugliese darà una grande mano alla squadra italiana. All'allenatore De Giorgi chiedo, ma come si prepara un evento così di portata, diciamo internazionale? La squadra quali sono, come viene caricata? Beh, si prepara, inizieremo intanto a maggio perché bisogna aspettare che finiscano tutti i campionati e faremo prima un torneo internazionale che si chiama National League nel quale si faranno delle partite in giro per il mondo e quello sarà un momento importante di crescita per arrivare poi alla competizione dell'Europeo che si gioca in agosto e primi di settembre. Quindi sarà un lavoro a lungo, ma spero di grande soddisfazione. Ok, grazie.